Apriamo uno spazio dedicato alle malattie rare, malattie che possono interessare anche i nostri occhi e bagliori, ma non solo, anche perdita improvvisa della vista. Magari sono dei sintomi abbastanza frequenti, può accadere, però questi sintomi possono essere il sintomo di una malattia più importante. Proprio di questo parleremo con la dottoressa Maria Lucia Cascavilla. Grazie per essere venuta qui al mio medico. Io ricordo che è la responsabile dell'unità di neurooftalmologia e malattie rare all'ospedale San Raffaele di Milano. Allora dottoressa, io ho parlato di bagliori, di perdita momentanea della vista, però quando questi sintomi possono riguardare una malattia un po' più seria, una malattia appunto rara? Allora, questi sintomi spesso si correlano ad una patologia rara che è conosciuta con l'acronimo di LON, L-H-O-N, che sta per Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber. È una patologia eredodegenerativa che colpisce i mitocondri. I mitocondri sono degli organelli contenuti all'interno delle cellule che danno energia alle nostre cellule. Di conseguenza, un'alterazione di queste cellule determina un malfunzionamento a livello del, in questo caso, del nervo ottico. Ci sono anche altri sintomi che ci possono far sospettare, perché io ho detto bagliori, perdita momentanea, però ci sono anche altri sintomi che ci devono far preoccupare. Allora, il paziente alcune volte riferisce una perdita visiva importante, correlata appunto a questo bagliore, che rappresenta lo scotoma centrale che noi oculisti definiamo appunto scotoma centrale, e nella parte periferica il paziente riferisce una visione puntinata, bianchi e neri, puntini bianchi e neri, la famosa visione a scacchiera. E stiamo leggendo nel cartello anche sensazione di luce anche al buio e con gli occhi chiusi. Sì, il paziente riferisce anche questo, spesso giunge in pronto soccorso o in ambulatorio di neurooftalmologia riferendo questo bagliore che si manifesta anche di notte, soprattutto con gli occhi chiusi e al buio. Colpisce prevalentemente i soggetti di sesso maschile. Maschile, perché sono più gli uomini. Quali possono essere le cause? Voi avete identificato alcune cause? Sì, allora le cause è una patologia genetica. Di conseguenza c'è un'alterazione di un gene a livello mitocondriale che determina appunto questa alterazione. Bisogna pensare all'occhio come ad una telecamera, una telecamera a cui arriva uno stimolo visivo e questo stimolo visivo poi attraverso la retina viene trasformato in uno stimolo elettrico e grazie poi al nervo ottico giunge a livello dell'encefalo, quindi a livello del cervello, dove viene formulata l'immagine. Che cosa succede in questi pazienti? A seguito di questa alterazione, che è un'alterazione appunto genetica, come il paziente ci nasce, però sviluppa l'atrofia negli anni successivi, quindi intorno ai 15 ai 35 anni e determina appunto questo calo visivo importante. Per cui l'età coinvolta è dai 15 ai 30 anni? Sì, dai 15 ai 30 anni, anche se ci sono pazienti, abbiamo avuto anche dei casi in cui ci sono dei pazienti in età un po' più adulta, abbiamo avuto anche un paziente 80enne, quindi la media è dai 15 ai 30 anni, anche se ci sono dei casi in età un po' più adulta. Io immagino che diagnosticare una malattia rara è difficilissimo e anche in questo caso la prevenzione è fondamentale. Allora, come si può arrivare il prima possibile ad una diagnosi? In che modo? Allora, sapendo che è una patologia genetica, ci sono delle famiglie che sanno già di avere appunto l'alterazione genetica e quindi in quel caso teniamo sotto controllo i vari figli, soprattutto i figli maschi, però alla certezza diagnostica si arriva attraverso un esame obiettivo oculistico fatto in un certo modo, quindi bisogna valutare il fondo, il fondo dell'occhio, il nervo ottico ci parla, essendo un occhio però ci parla, nel senso che è rigonfio, presenta delle piccole alterazioni vascolari, quindi anche un oculista che non sia un neurooftalmologo può avere almeno il dubbio che ci sia questa patologia genetica di base e in quel caso lì poi inviarlo al centro di riferimento. Altri esami che possono essere effettuati sono un esame del campo visivo, che ci manifesta appunto questo scotoma centrocecale, un esame importante è l'OCT, studi recentemente pubblicati anche da noi. L'OCT sarebbe un'ecografia dell'occhio in maniera volgare. Scusi, sì è vero, è una tomografia, OCT sa per tomografia a coerenza ottica, serve a valutare la struttura delle cellule ganglionari, la struttura del nervo ottico, quindi a partenza dalle cellule ganglionari alle fibre, e abbiamo visto che le prime cellule che sono interessate, che sono le cellule ganglionari, risultano alterate alcune volte anche preventivamente, prima che il paziente accusi i sintomi. E tutti questi esami di cui lei ci ha parlato, nessuno è invasivo, cioè non sente dolore il paziente? No, assolutamente, sono esami molto semplici. Deve semplicemente, per quanto riguarda la tomografia, quindi l'OCT, si chiede al paziente di fissare semplicemente una crocetta e non è invasivo. Il campo visivo penso che più o meno tutti nella vita, almeno una volta, l'abbiano fatto. Quegli esami un po' di secondo grado, anche se l'OCT adesso, per lo male, è entrato nella prassi comune, quando si va a fare una visita oculistica. Come si cura questa malattia? Le voglio dire anche che l'indagine genetica è quella fondamentale, perché per avere la diagnosi abbiamo bisogno che ci sia un'indagine genetica. E come si fa l'indagine genetica? Un prelievo, semplicemente un prelievo del sangue, e viene inviato al genetista che ci va a valutare le alterazioni. Allora, parliamo di cure. Come si cura questa malattia? Che cure abbiamo bisogno? Ad oggi non c'è una cura per far sì che la vista ritorni a questi ragazzi. C'è un antiossidante che serve a, è la cosa più importante, per questo è importante fare subito diagnosi, perché questo antiossidante viene, se viene somministrato nei primi sei mesi dall'evento acuto, possiamo avere dei risultati. E la ricerca a che punto è? La ricerca va avanti, infatti stiamo andando avanti con la terapia genica, non abbiamo ancora dei risultati, però ce li aspettiamo a breve. Insomma, state lavorando su questo. Nonostante si tratti di una malattia rara, stiamo andando avanti. Per fortuna, bisogna trovare anche tante risorse affinché la ricerca vada avanti, questo è fondamentale, noi spesso facciamo appelli affinché si possano avere tante risorse proprio per la ricerca. Dottoressa, qual è lo specialista di riferimento? Lei è neuro-octalmologa. Allora, come dicevo prima, l'oculista deve avere almeno il dubbio, l'oculista di base deve avere il dubbio che si possa trattare anche di un evento genetico e quindi ereditario. Anche perché spesso cosa succede? Viene misdiagnosticata, il paziente viene trattato come se fosse una neurite ottica, quindi viene somministrato del cortisone e alla diagnosi genetica si arriva molto tardivamente. Quindi è importante questo, è importante avere una diagnosi nel più breve tempo possibile. Ci sono dei centri di riferimento, cioè se l'oculista ha il dubbio che si possa trattare di un evento genetico, può inviarli a dei centri, quali appunto centri di neuro-octalmologia. In Lombardia c'è il centro dove lavoro io, però c'è l'altro centro in Emilia-Romagna con il professor Carelli che da anni si occupa di questo... E come si fa ad accedere a questi centri di riferimento? Allora, ci sono delle mail, ci sono dei numeri di telefono, si può richiedere anche all'associazione Mitocon che segue questi pazienti se loro hanno anche, se hanno dei dubbi, possono chiedere anche all'associazione. E a proposito di Mitocon, dottoressa, io vorrei ricordare anche il sito Mitocon. Lei ricordate, lo stiamo vedendo in questo momento, all'interno ci sono tanti consigli e magari potete chiedere appunto il centro di riferimento regionale. Io la ringrazio tantissimo, dottoressa Cascavilla. Bocca al lupo per tutto, affinché insomma la ricerca vada avanti. Grazie di cuore e grazie a tutti voi. Grazie.